OST 2019, ci troviamo allo stand dell'area FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e siamo in compagnia di Vittorio Di Cunzolo, il deus ex macchina di una nuova app che si chiama Breakfast Point. Vittorio, benvenuto. Salve, buongiorno. Ci spieghi che cos'è quest'app e come funziona? Sì, l'app dà l'opportunità agli utenti di geolocalizzare in base alle proprie esigenze alimentari il punto di colazione più vicino attraverso quindi la geolocalizzazione e dei filtri di ricerca che l'app mette a disposizione nell'interfaccia grafica che si ritrova all'interno. Si può scegliere quindi una colazione vegana, una colazione gluten free, una colazione senza lattosio e geolocalizzare il punto vendita più vicino. Questa è la parte relativa all'utilizzo utente. La parte relativa all'utilizzo esercente invece è importantissima perché permette appunto al titolare di un bar, di una caffetteria o di una pasticceria di poter pubblicizzare in maniera rapida, veloce e targettizzata la propria attività, la propria offerta di prima colazione sia di referenze che di bevande. Oggi siete sia sull'Apple Store che su Google Play, su entrambi i marketplace dei maggiori marchi per poter scaricare appunto sui telefonini la vostra app. È prevista anche una versione desktop? Sì, è prevista anche già una versione desktop e in effetti il nostro sito è già disponibile in versione mobile per cui l'iscrizione eventuale di affiliazione per quanto riguarda l'inserimento di esercenti all'interno dell'app può avvenire anche già tramite il mobile e appunto tramite la web app che è a disposizione. Perché siete qui proprio allo stand dell'area FIPE? Siamo qui nello stand dell'area FIPE perché la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha manifestato un interesse per quanto riguarda la nostra app e con loro stiamo cercando di stringere un accordo per la diffusione per tutti gli associati. Bene, e allora abbiamo detto che se desiderano scaricarla possono andare su Google Play o sull'Apple Store ma per avere invece maggiori informazioni, per aderire al vostro progetto qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? info.breakfastpoint.eu Vittorio, grazie! Grazie a voi, grazie! Grazie a voi!